Di che inizio siete? Meccanica, manutenzione meccanica Come sono andati gli esami? Devo ancora entrare io Devo ancora entrare ma gli iscritti? Gli iscritti sono andati abbastanza bene Cioè ho tutte le sufficienze anche più Come mai hai scelto la Ford come tema di... Perché è inerente al mio indirizzo e mi piaceva come... Ma ti piace la Ford come macchina? Come macchina Che cosa c'è di diverso rispetto alle altre macchine? Che ha fatto dei modelli molto potenti Cioè è un motore con prestazioni molto elevate E mi ha colpito anche la storia Che comunque si collega anche in altre materie L'anno prossimo? L'anno prossimo io cerco di andare a lavorare Se trovo lavoro e basta Cosa ti piacerebbe fare? Lavorare sempre nell'ambito meccanico Mi piacerebbe andare a lavorare Tipo portare la meccanica a domicilio Cioè andare nelle varie case a riparare i vari mezzi Quindi vorresti essere libero professionista? Libero professionista Vacanze? Vacanze Adesso prima del tempo penso di finire gli esami Poi vedo dove andare via quella memorosa Grazie Ho fatto il motore diesel Ho spiegato tutto il suo ciclo e tutti i suoi componenti del motore Come sono andati gli esami? Sono andati abbastanza bene Quindi Lo prossimo anno cosa ti piacerebbe fare? Andare a lavorare Sempre nel campo della meccanica? Sì sì, meccanico Ma questo qua non è il periodo di ramadano? Eh sì, lo sto già facendo Com'è? Eh, ho fame È stato duro fare gli esami con... Eh sì Come hai ingannato la fame? Non pensando a mangiare Un po' di ansia Cioè diciamo che l'ansia ti è stato lo stomaco? Sì, un po' sì Perfetto In bocca al lupo Grazie Ciao Techi, come è andato gli esami? Ma sostanzialmente sono andati bene gli esami Più o meno difficili di quanto te li aspettavi? Ma sinceramente me li aspettavo un po' più difficili Però direi che me li sono cavati non bene Però neanche male Che tesi ne hai portato? Ho deciso di portare il Common Rail Cos'è? Allora il Common Rail è... Diciamo... Si monta sui motori diesel Ed è... Ed è stato una delle... Negli ultimi anni è stata una novità appunto Nella meccanica La domanda più difficile? Eh diciamo nella tecnologia meccanica Che vabbè si tratta fisica Cioè che è quasi fisica E niente lì diciamo che mi ha un po' spezzato perché Diciamo che la materia è cui sono andato un po' male in questi anni Quindi... Certo Gli iscritti come sono stati? Ma gli iscritti sono andati abbastanza bene Più del... Sono andati meglio del previsto Quindi sono abbastanza contento Ok... Perfetto Salah? Allora... Come sono andati gli esami? Eh... Per il momento molto bene La sua tesina è? Eh... Sul volo L'origine del volo Come mai quest'anno? Perché mi attirava particolarmente Ho fatto... Diciamo che è stato facile fare tutti i collegamenti Gli iscritti come sono andati? Molto bene Mi hanno dato la sufficienza già prima dell'orale Quindi... Perfetto L'anno prossimo? Faccio il test a ingegneria e spero di passare Altrimenti faccio... Vado a lavorare Ok... Perfetto Grazie ragazzi A voi